Come in un puzzle compaiono nuovi pezzi. Un nuovo macabro ritrovamento di ossa infittisce il giallo del corpo senza nome, che ha riaperto però il caso di Isabella Noventa, la 55enne di Albignasego scomparsa nel gennaio 2016. Salgono a 5 i frammenti ossa ritrovati nelle spiagge della provincia di Rovigo in 10 giorni. Venerdì 30 agosto, nella battigia di Porto Caleri a Rosolina, è spuntato un osso che sembrerebbe essere un femore umano. Prima di quest'ultimo pezzo, fra il 20 e il 29 agosto, nella spiaggia libera della lussuosa isola di Albarella, sono stati registrati 4 ritrovamenti. Una mandibola con due denti, un frammento di 12 cm che sembrerebbe una parte di bacino, un pezzo di costola di 17 cm e un frammento irregolare di circa 10 cm. Senza contare poi alcune schegge osse raccolte da una donna di Asolo ad Isola Verde e portate ai carabinieri. Tutti i reperti sono stati consegnati all'autorità giudiziaria e verranno analizzati a partire da venerdì dal medico legale di Ferrara, Lorenzo Marinelli. La procura di Padova ha chiesto a quella di Rovigo di verificare se ci sia corrispondenza con il DNA di Isabella 90, qualora venisse confermato che si tratti di ossa umane. La famiglia della donna attende di conoscere i risultati, anche se nutrono molti dubbi. Per la morte e l'occultamento del cadavere di Isabella si trovano in carcere dal febbraio del 2016 i fratelli Freddy e Deborah Sorgato, condannati a 30 anni, e Manuela Cacco che deve scontare 17 anni. Il camionista ballerino, dopo l'arresto, aveva confessato di aver ucciso accidentalmente Isabella durante un gioco erotico e di aver gettato il corpo della donna nel fiume Brenta. Una versione che non aveva mai convinto gli inquirenti e nemmeno la famiglia 90 e che era stata smentita poi dalle dichiarazioni fatte dall'ex amante Manuela Cacco, l'unica del trio diabolico che all'epoca dei fatti decise di collaborare con gli investigatori. Nessuno dei tre però in questi anni ha mai voluto rivelare dove sia stato nascosto il corpo di Isabella.